Conferenza stampa molto cantata e poco parlata del giovane e già celebre cantante francese Johnny Holiday giunto a Roma per prendere parte allo spettacolo televisivo di Caterina Valente. Johnny Holiday, nonostante sia entrato da poco nella ristretta cerchia dei grandi vivi della canzone, è già uno dei cantanti meglio pagati del mondo. La cosa però lo lascia indifferente. Johnny infatti non può spendere a suo piacimento i molti soldi che guadagna, ma deve renderne conto al suo severissimo tutore. Una sentenza del tribunale ha stabilito che il giovanissimo Johnny potrà disporre dei propri guadagni soltanto quando sarà entrato nell'età della ragione. Se ce la farà è entrarci. Se ce la farà è entrarci.